siamo qui davanti al carcere lo russo e cotugno con nicoletta dosio nicoletta 59 suicidi in carcere dal primo dell'anno e un suicidio molto recente al cpr di gradisca di sonzo quindi una la detenzione sta diventando davvero è difficile da sopportare per tutta una serie di persone cosa ci può dire su questo la cosa che devo dire che posso dire è che il carcere va abolito e se questi suicidi si conoscono ora e perché comincia a farsi sentire anche un movimento contro il carcere per i diritti reali di tutti e sono situazioni che nascono con facilità in un ambiente come quello che il carcere dove quello che viene tagliato quello che viene impedito non è solo la libertà ma è la speranza stessa e nel momento in cui uno affronta la disperazione e l'affronta in solitudine senza prospettive senza sapere che cosa gli succederà e allora è anche facile chiusi in una cella pensare che la sofferenza diventa insopportabile e quindi la morte è migliore che della non vita che c'è lì dentro questo non deve soltanto indignare soprattutto non non devono piangere le lacrime di cocodrillo chiedo scusa i cocodrilli che sono brave persone i politici di sempre che improvvisamente scoprono che il carcere crea problemi crea non solo devianze ma crea disperazione nel momento in cui invece queste condizioni sono peggiorate proprio dal mondo della politica la così di cosiddetto securitarismo e il cosiddetto giustizialismo e quindi di queste morti siamo responsabili tutti tutti coloro che non vogliono capire che l'alternativa al carcere c'è e della giustizia sociale la possibilità per tutti di vivere decentemente e insieme agli altri la solidarietà grazie prego